non era proprio così ma fa niente no di qua di qua non è così indietro dove c'è spampi e poi giri indietro a fare il sassone no così e vieni qua a far questo tanto in piano appoggi qua arrivi da là perché vai là fino a là e torna indietro arrivi da lì appoggi devi prenderlo giusto diritto che ti appoggi e poi scendi guarda adesso lo fa lui bravi bravi oh qua guardi c'è un problema sotto che resta molto poi io l'ho consiglio allora no 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 allora no lo fa lui che è meglio ti ho trovato la scusa no ma va ma lo fa no ma lì non si sbaglia bravi allora vai così così esci passi sotto e fai questo qua oh leo leo allora passi sotto qua e fai quello non farlo scemo prendilo sono troppo basso eh devi andare sopra eh vai mi butti giù se mi butti giù cazzo no di lì non lo puoi fare lo devi fare qua no ma lo devi fare lì eh perché se lo fai qua cadi se lo fai qua ti incuzzi vai giù e di qua pure no di qua non fai sì eh non è per fermarlo perché quando non sono e non riesco a fermarmi vado contro il tronco là eh per quello che mi fa morire non è che me non fai stare la roba non lo fa no no vuole tornare la porta non lo fa ma lo fa e anche lì perché? perché ha paura che si incuzza di là eh sì infatti perché devi appoggiarti lì oh è sicuro la protezione tipo di quanto devi fai la protezione lì eh fermati che oh te ma c'è il video questo lo voglio ho sentito la porcella che si schiacciava così solo lui poteva fare una roba del genere ha fatto fino a così la porcella davanti è tutta schiacciata vai a guardare bene